86 milioni di buco nella sanità. Non si parla d'altro in questi giorni e lo scontro politico tutto interno alla maggioranza è sempre più infuocato. La bomba l'ha sganciata il presidente Donato Toma durante l'ultimo consiglio regionale puntando il dito senza mezzi termini verso Michele Iorio. Ma cosa sono questi soldi che nulla hanno a che vedere con i 60 milioni che hanno invece determinato il noto deficit per cui la regione è ancora in rosso? Sono quelli che mancano nelle casse dell'Inps e relativi ai contributi dei dipendenti delle ex ASL della provincia di Campobasso. Quei contributi vennero sospesi grazie a una legge approvata ad hoc per il Molise dal governo Berlusconi. Era il periodo del post terremoto e venne deciso su input di Iorio di far beneficiare i dipendenti del comparto ASL della busta paga con l'importo all'ordo. La restituzione di quei soldi, 86 milioni appunto, 50 di contributi e 30 di mora, è finita al centro di un contenzioso vinto dall'Inps fino in Cassazione. La mia colpa sarebbe stata quella di aver provveduto a ottenere un vantaggio seppur temporaneo per cittadini e imprese, vista l'attività produttiva stagnante su tutto il territorio regionale a causa proprio delle calamità, spiega Iorio in una nota. Ebbene sì, è tutto vero e lo rifarei. E quando si entrò nella fase della restituzione dei contributi, ho fatto una battaglia verso il governo nazionale. Sostanzialmente Iorio puntava a fare in modo che il Molise ottenesse lo stesso trattamento di Umbria e Marche, cioè che non restituisse quei soldi. E ora attacca Toma, che a suo dire non si sarebbe nemmeno presentato a settembre all'incontro con il direttore Inps Tridico e l'ex DG Asrem Sosto, volto a definire una transazione. Non so se Toma, mente sapendo di mentire, oppure per sfogare tutta la sua credine nei miei confronti, tira fuori la sua scorrettezza umana e istituzionale, annunciando prima in consiglio e poi sulla stampa a debiti di responsabilità inesistenti al mio governo. Non si è fatta attendere la replica dell'attuale governatore. Non critico la scelta amministrativa di Iorio, ha detto. Dico solamente che quella decisione non è stata condivisa con l'Inps. Non sono mai stato invitato all'incontro con Tridico, ma ho in mente di parlarci e di chiedere una transazione. In consiglio ho sollevato un problema, che non è stato generato da questa amministrazione. E questa questione va risolta, è emersa per far capire il lavoro volto a far quadrare i conti che stiamo facendo. Questa battaglia tra i due big del centrodestra molisano, sempre più accesa, finirà con l'implosione dello schieramento già traballante?